Siamo con Tobi di Kart Events, la domanda la vogliamo fare in francese, Tobi bravo per la qualificazione e felicitazione également per la Premier Relais. C'è la prima volta che l'on parte qui è stato difficile per trovare un buon rythme, la qualificazione a la prima place c'era un buon cadeau, non avevamo l'expérience, ma c'era molto bene, la prima relazione è un po' difficile, magari con alcuni italiani che hanno un buon temperamento, ma abbiamo provato un po' di più. Ora abbiamo già fatto due stop, quindi è il nostro terzo pilota che sta rando. Sì, proprio prima del cambiamento eravamo la terza in classe, ma è ancora lungo, 24 ore è lungo, ma abbiamo provato lo meglio possibile. Ok, allora, buona giornata per la testa! Grazie mille! Grazie mille!